Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura la cronaca, un ragazzo di 20 anni è morto ad una settimana di distanza da un intervento per dimagrire. L'operazione era stata eseguita in una clinica a retina. Un ragazzo di 19 anni è morto a Roma, sua città di residenza, dopo due malori avvenuti successivamente ad un'operazione a cui si era sottoposto per perdere peso in una clinica privata a retina. I familiari hanno sporto denunce sul caso. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Il giovane, che pesava 160 kg, era stato dimesso lo scorso 21 aprile. Secondo quanto ricostruito dai genitori in fase di denuncia, il 25 aprile ci sarebbe stato il primo malore. Soccorso all'ospedale San Carlo di Nensi non sarebbe emerso nulla di grave e il ragazzo avrebbe firmato per le sue dimissioni. Il giorno successivo, venerdì 26 aprile, un altro malore. Sempre secondo quanto ricostruito, tutto andrà ovviamente confermato. Dalla chiamata dei soccorsi al suo arrivo in ospedale, questa volta il Policlinico Gemelli di Roma, sarebbero trascorse tre ore. Ci sarebbero state delle difficoltà nel trasporto del giovane in ospedale, perché la prima ambulanza non avrebbe avuto l'attrezzatura idonea per trasportare il 19enne in ospedale. Il ragazzo sarebbe quindi arrivato in pronto soccorso in condizioni disperate e dopo nemmeno un'ora è morto. La famiglia è assistita dall'avvocato Cristiano Pazienti. Venerdì prossimo alle 13 ci conferma verrà eseguita l'autopsia. Abbiamo nominato un nostro consulente. Adesso attendiamo gli esiti di questo accertamento. La clinica retina intanto ha avviato un'indagine interna. Abbiamo appreso questa mattina quanto era accaduto una notizia drammatica che ci addolora. Fa sapere l'amministratore unico di centro chirurgico toscano Stefano Tenti. Immediatamente abbiamo ripercorso quanto è accaduto passo dopo passo e sentito tutti i medici che si sono occupati del caso. Per quanto di nostra conoscenza al momento non riscontriamo anomalie nelle procedure seguite. Su cosa sia accaduto dopo le dimissioni possiamo solo fare delle ipotesi. Fondamentale sarà il risultato dell'esame autoptico. Ed ancora cronaca, grazie al gesto di una coraggiosa retina, una rapina è stata sventata. Vediamo cosa è successo. Io comprendo anche chi ha paura e io o non ce l'ho o sono inconsciente, non lo so, però io brontoro anche le persone che buttano le cartacce in terra, che non raccolgono le cacche dei cani. Quindi a costo di passare da antipatica bacchettona però è più forte di me, è natura. Quando ha visto i due rapinatori allontanarsi con il bottino ancora tra le mani, non ci ha pensato due volte, li ha inseguiti fino a quando non è riuscita a recuperare il borsello rubato e poi lo ha riconsegnato alla vittima. Protagonista della vicenda, Maria Cristina, che nella serata dello scorso 26 aprile stava percorrendo in auto via Cristoforo Colombo ad Arezzo. All'incrocio con via Curtatone però ha sentito delle urla, la richiesta di aiuto di un ristoratore che era stato aggredito da due uomini con il volto coperto e che si stavano dando alla fuga con l'incasso della serata, circa 2000 euro. Non ho ragionato, ho distinto, li ho inseguiti con la macchina finché ho potuto, poi si sono divisi e allora sono scesa dalla macchina e ho inseguito a piedi quello con la borsa urlandogli di lasciarla in terra. Lui ha provato a dirmi o la pistola o la pistola, io continuavo a urlare, lascia la borsa, lascia la borsa, lascia la borsa e alla fine a quanto pare ha funzionato perché l'ha lasciata. Alla fine il malvivente ha così abbandonato il borsello che è stato restituito alla vittima. Io ci ho provato, ero certa di non riuscirci, ero certa di smollare dopo un po', però perlomeno chi fa queste cose sa che non tutti fanno finta di niente, cioè loro devono sapere che non possono agire indisturbati, che ci sarà sempre qualcuno che gli correrà dietro e a volte andrà anche bene. È l'occasione di ribadire l'importanza dei gesti di coraggio e intraprendenza come quelli messi in atto dalla signora Maria Cristina che non ha voltato lo sguardo dall'altra parte. Queste le parole della questora di Arezzo, Maria Luisa Di Lorenzo, che ha ringraziato personalmente la donna. I complimenti fanno sempre piacere, quindi ci sono andata molto volentieri e mi sono presa complimenti. Quindi lo rifarebbe senza pensare. Sì, sì, assolutamente. Se non ho accanto persone che metto in pericolo, lo rifaccio di sicuro. Quattro esercizi commerciali di Pian Disco invece sono finiti nel mirino dei ladri nella notte tra sabato e domenica. Si tratta di un ristorante, un bar, una macelleria ed un negozio di alimentari. In tutti i casi i malviventi sono entrati scassinando o forzando la porta d'ingresso e poi una volta dentro hanno portato via i pochi soldi trovati nel fondo cassa ed alcuni generi alimentari. Ed un altro furto, una spaccata nei giorni scorsi, era avvenuto anche in Piazza della Badia ad Arezzo, un angolo della città che è stato al centro di un incontro adesso tra commercianti e comune in vista della ZTL Estiva. Il prossimo 17 maggio torna la ZTL Estiva nel centro aretino con la pedonalizzazione ed alcune strade chiuse al traffico ogni fine settimana. I commercianti di Piazza della Badia hanno così già incontrato il comune per parlare del tema sicurezza, un tavolo al quale si è seduto, oltre all'assessore Simone Chierici, anche il comandante della polizia municipale Aldo Poponcini. L'obiettivo infatti è quello di far convivere gli interessi dei locali della zona e quelli dei residenti che ormai da tempo, soprattutto nei mesi estivi, denunciano una movida molesta, il disturbo della quiete pubblica, ma anche veri e propri attimi di tensione, oltre che degrado, sporcizia ed atti vandalici. In questo angolo del centro storico era già nato anche un comitato di residenti, spazio al centro, che adesso è pronta a chiedere formalmente un nuovo incontro con le forze dell'ordine e il comune. Più volte i cittadini hanno chiesto di far valere il regolamento di polizia urbana del comune, oltre che un presidio mirato della zona. Solamente qualche giorno fa, in questa zona, una spaccata in un alimentare, il malvivente si era anche ferito sfondando la porta di vetro. Il vetro ha preso la calza, poi altri danni, un sulto diciamo all'alba del mattino, perché ieri sera ho chiuso a ascoltarti, c'è stato un momento strano, una zona tranquilla, poi il venerdì sera non è che sia proprio... la sera è sabato, quindi penso che... Torniamo adesso a parlare invece dell'inchiesta Cheu, il TAR della Toscana ha dato ragione alle due aziende aretine, Chimet e TCA, che non dovranno più farsi carico della bonifica dell'aria inquinata. Non chi trasportava, ma chi gestisce e smaltisce i rifiuti dovrà occuparsi della bonifica. Una sentenza del TAR sulle bonifiche del Cheu rimette così in discussione tutto il procedimento che riguarda i siti inquinati in giro per la Toscana. I giudici e amministrativi adesso hanno dato ragione a due aziende orafie aretine, Chimet e TCA, che hanno avuto la meglio sulla regione. Le imprese dunque non saranno condannate a pagare la bonifica delle aree inquinate, nel caso specifico un sito di stoccaggio di bucine legato alle aziende di Francesco Le Rose. Annullando così di fatto l'ordine di bonifica fatto dalla regione nel 2023, il rischio però è che in ultima istanza dovranno essere proprio gli enti pubblici a doversene far carico. La regione ha comunque già annunciato di voler ricorrere al Consiglio di Stato. Per i presunti smaltimenti illeciti di Cheu, la Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone, tre impreditori, alcuni dei quali ritenuti vicino all'andrangheta, politici ed amministratori pubblici e sei aziende. Compariranno di fronte al gruppo il prossimo 10 maggio, giorno in cui è in programma l'udienza preliminare. Tra gli enti che invece hanno già annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile, ci sono il Comune di Bucine e il Movimento Consumatori Toscana. Costruiremo un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale è il tema scelto da CGL Cisleguil per il primo maggio. Le manifestazioni si terranno nella mattina Lucignano, Foiano, Monte San Savino, Cortona Stie e San Giustino Valdarno. I segretari confederali saranno alle 11 nei giardini di Lucignano e chiuderanno una manifestazione che avrà avuto inizio alle 10.30 da Porta San Giusto con un corteo per le vie della città con macchine agricole e la banda musicale Rosini. E sarà un primo maggio anche di iniziative congiunte per AGL Cisle e Movimento Cristiano Lavoratori. Le tre attività retine promuovono un programma di appuntamenti dal mattino al tardo pomeriggio. Le celebrazioni verranno aperte alle 9.30 dall'ormai tradizionale visita all'archivio di Stato per la deposizione di una corona di fiori seguita da un momento di raccoglimento e un incontro con i familiari di Piero, Brugni e Filippo Bagni che nel 2018 persero la vita in seguito ad un tragico incidente sul lavoro. Alle 16.00 poi un dibattito ospitato da Camo in Piazza Grande e alle 16.30 il concerto dell'orchestra giovanile di Arezzo. La conclusione della giornata è invece prevista alle 18.30 con la messa per i caduti sul lavoro nella chiesa di Santa Maria della Pieve. E adesso voltiamo pagina, ci spostiamo all'ospedale San Donato nel reparto di Neonatologia da dove arriva un importante appello alle neomamme. Tra tante persone che hanno un eccesso di latte, un eccesso rispetto al falbisogno del proprio bambino che quindi si trovano a doverlo tirare e magari buttarlo via, ce n'è qualcuna che pensa a poterlo donare e per noi è un elemento a volte anche salvavita. È questo l'appello che arriva dalla Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale San Donato di Arezzo. Negli ultimi anni infatti le mamme donatrici sono diminuite, di conseguenza anche la disponibilità di latte umano. Diciamo che non c'è un'emergenza, c'è l'urgenza di sensibilizzare maggiormente anche da parte di tutti noi operatori perché abbiamo visto un calare progressivo e in questo momento abbiamo dovuto chiedere aiuto all'esterno. Se per il neonato sano il latte umano rappresenta il nutrimento ideale per i nati pretermine da considerarsi come un vero supporto terapeutico. Nel nostro reparto sono tanti neonati prematuri soprattutto in questo momento e l'appello che abbiamo fatto è quello di sensibilizzare, per sensibilizzare tutte le mamme all'importanza della donazione di latte. Questo perché magari donatori di sangue si può essere per una vita quasi intera mentre donatori di latte sono pochi mesi. All'ospedale San Donato è presente una banca del latte umano donato che collabora in rete con le altri presenti nella regione toscana. È una zona dedicata alla raccolta, lavorazione e poi distribuzione del latte umano donato dalle mamme donatrici. Noi abbiamo un sistema che garantisce anche la raccolta a domicilio o meglio, mi spiego, le mamme raccolgono il latte a casa, lo congelano mettendolo in dei contenitori che noi forniamo che sono sterili e vengono etichettati e poi passiamo con un servizio dedicato a domicilio per mantenimento della catena del freddo e ritiriamo il latte congelato. Il latte viene portato alla banca, qui viene pastorizzato e lo distribuiamo poi ai bambini che hanno bisogno durante il periodo di ricovero. La donazione di latte è semplice ma come tutti i donatori sono selezionati cioè serve di avere un arruolamento, per l'arruolamento serve un prelievo di sangue per vedere appunto l'aspetto infettivologico dell'organismo e un questionario sullo stile di vita come per tutti i donatori, donatori di sangue, di midollo, questo è il tipo di arruolamento dopodiché si inizia a donare il latte. Una donazione invece da parte dei volontari AVO all'oncologia dell'ospedale San Donato. Due carrelli, porta farmaci, una lampada per uso ambulatoriale ed un televisore da installare nella stanza 5 per intrattenere i pazienti in attesa della terapia. A donarli al reparto di oncologia medica per un valore complessivo di quasi 3.000 euro è l'AVO, l'associazione volontari ospedalieri. Una donazione importante, abbiamo due carrelli per i farmaci da gestire nell'ambito del day hospital, una lampada per le medicazioni e uno schermo tv. Quest'ultima, una stanza importante, è la stanza in cui noi abbiamo l'apparecchio anticaduta per i capelli da utilizzare durante alcuni trattamenti chemioterapici per cui un aiuto all'intrattenimento e a superare questo momento che è difficile sia per il trattamento sia per l'utilizzo dell'apparecchio anticaduta ma per ovviamente avere obiettivi importanti, cioè riuscire a superare il momento difficile che è quello che viene affrontato qui durante i trattamenti. E direi che il supporto delle associazioni è fondamentale. Nata nel 1975 a Milano, AVO opera in tutta Italia con 246 sedi, tra cui quella di Arezzo, dove dal 1981 è presente all'interno dell'ospedale San Donato. opera nei reparti di medicina, geriatria, ortopedia, oncologia e pronto soccorso e collabora anche con la pediatria. Diciamo che il nostro rapporto con l'oncologia è sempre stato molto forte, siamo sempre stati attenti alle richieste sia in passato che in presente fatte da questo reparto. Oltretutto abbiamo un progetto parrucche già in essere da molti anni con questo reparto con il quale contribuiamo all'acquisto di parrucche per le donne malate oncologiche e questa volta, su richiesta del dottore, abbiamo fatto un'ulteriore donazione. Una mostra sui grandi carnivori nell'atrio di onore della provincia in programma questo fine settimana. A presentarla il CAI e l'esposizione collegata idealmente alla mostra sulla fauna selvatica della provincia. 19 pannelli espositivi che vogliono dare un'informazione corretta sui grandi carnivori, chiamate anche presenze silenziose. Sabato 4 maggio poi anche la proiezione del docufilma Lupo 1, premio Rai alla Trento Filma Festival 2023. Un documentario nato dal monitoraggio di un esemplare grazie ad un radiocollare. Saranno presenti Duccio Versi che è partecipato alla ricerca e Luca Mattioli, responsabile per Arezzo delle attività faunistiche della regione, entrambi esperti faunistici e componenti della Task Force Lupo della regione toscana. Domani invece ad accendere i motori sarà il raduno Vespa Rezzo. La giornata di mercoledì sarà nuovamente caratterizzata dal tradizionale appuntamento promosso dal Vespa Club Arezzo che giunto alla ventitresima edizione riunirà centinaia di vespisti dall'Italia e dall'estero per accompagnarli in un giro turistico tra le bellezze del territorio che partirà dal centro storico aretino e che arriverà sino al Castello di Pompi. Adesso passiamo invece alla pagina dello sport. Il Vangelo attraverso il calcio è il nome dell'iniziativa in programma venerdì 3 maggio. Una giornata tra calcio e solidarietà nel ricordo di Don Paolo De Grandi, il parroco prematuramente scomparso. Ci sarà anche un incontro tra la rappresentativa del Vaticano e la nuova squadra di calcio a 5 formata da soli preti. Il Vangelo attraverso il calcio è il titolo della giornata di sport e solidarietà nata per ricordare la figura di Don Paolo De Grandi, parroco di Campolucci, calciatore professionista, guida spirituale per un'intera comunità e per la Polizia di Stato, scomparso prematuramente a causa di un malore proprio in un campo di calcio nel luglio del 2016. L'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sezione di Arezzo, con il padrocinio della diocesi, ha quindi voluto questa giornata di sport per ricordarlo. La struttura sportiva dell'Olmo Ponte ospiterà le partite di calcio a 5. Ad affrontarsi saranno la Selecao Sacerdoti di Calcio, Clericus Arrezzium, la Gendarmeria del Vaticano, Amici di Don Paolo, la Polizia di Stato e il calcio Champagne Arezzo. Il suo mantra era il Vangelo attraverso il calcio, che era più che altro uno stile di vita che riusciva ad avvicinare tantissime persone con questo sistema. Abbiamo visto a Campolucci dove lui era parroco, ha creato tante strutture per lo sport, è stato sempre presente anche nell'aretino, nel calcio. A maggior ragione poi ha creato insieme ad altre persone, credo in Palestina, se non ricordo male, un campo da calcio per i bambini palestinesi. Abbiamo di nuovo invitato i ragazzi della Gendarmeria e loro hanno accettato con molto piacere, anche perché, ripeto, si ricorda un sacerdote calciatore professionista, perché questo ragazzo giocava nel Verona. Questa manifestazione ha ovviamente anche uno scopo solidale. Assolutamente, come tutte le cose che organizziamo, i nostri sponsor sanno benissimo che poi alla fine, oltre che il rendiconto serio da presentare, abbiamo sempre un fine benefico e il fine benefico è per la Caritas, anche perché abbiamo la partecipazione del Vescovo che si impegna molto per questo evento ed è là il di Arezzo. Il Vescovo lo vedremo dare qualche calcio al pallone? Forse ci rispondete. Sì, probabilmente il Vescovo sarà al campo a dare la benedizione sicuramente, e non sappiamo se darà il calcio d'inizio, ma potrebbe anche essere di sì, insomma, tanto è una persona molto presente, per cui è stato il primo ad accettare immediatamente il patrocinio per questo evento. Nel contesto, al campo sportivo, sarà presente anche una delegazione degli amici di Vada di Cortona con i ragazzi disabili che loro gestiscono, proprio per dar forza alle persone più deboli e aiutare in qualsiasi modo le persone. È stato ancora uno straordinario successo per il trofeo Guido Guidelli, che ha richiamato ad Arezzo e provincia 38 squadre, che si sono date battaglia sui campi per tre giorni per un totale di 81 incontri. Il momento clou, come ogni anno, è stata la serata di venerdì con le premiazioni che hanno riempito il Palace Portestra. Stasera andrà in onda la serata integralmente dopo il nostro telegiornale. Vediamo intanto un piccolo estratto. Presidente, davvero una 39esima edizione da record, e per voi insomma una grande soddisfazione? Sì, per me doppia, perché quest'anno io non ho potuto dare il mio contributo, quindi ho uno staff organizzativo spettacolare. Quest'anno i numeri, insomma, prevedevano anche qualche difficoltà. Per adesso è andato tutto bene, quindi diciamo siamo molto soddisfatti sia dell'afflusso sia dell'afflusso turistico, perché mi dicono che insomma c'è stato molto afflusso anche della città per visitare Arezzo. Quindi quello che noi vogliamo sempre dire, il turismo sportivo, stavolta ancora di più ha funzionato. Quindi sono veramente contento e per adesso sono solo complimenti, quindi mi fa molto piacere tutto bene. Avete dato un premio speciale alla Virtus Trapani, insomma senza nulla togliere ma arrivare dalla Sicilia. E poi la motivazione è molto bella, lo sport annulla le distanze. Esatto, questo è stato scelto insieme al Panathlon proprio per il sacrificio che questi ragazzi hanno fatto, considerato hanno dovuto prendere un aereo, poi il treno, poi i pullman, insomma quindi mi sembrava giusto fargli questo regalo. Mi sembra che hanno apprezzato molto. Si pensa al compleanno Cifratone. Esatto, il quarantesimo bisogna inventare però qualcosa di particolare. So già che Umberto Vezzosi quest'anno non ha portato un ospite e a caccia di uno importantissimo, chissà, vediamo un po', però dobbiamo fare qualche cosa. Cominceremo a lavorare come al solito invece che da novembre, magari anticiperemo un mese e vediamo un po'. Giovedì 2 maggio alle 21 al Museo Amaranto saranno consegnati gli annuali premi della Museo relativi a questa stagione. Il premio Rovesciata d'Oro andrà al giocatore Amaranto con il miglior rendimento assoluto stagionale e sarà destinato a Luca Trombini. Premio Lauro Minghelli invece ha segnato al miglior under 23 Amaranto della stagione a Mattia Damiani. Premio Chimera Amaranto sarà segnato alla calciatrice dell'Arezzo Calcio Femminile con il miglior rendimento stagionale, ossia Maria Giulia Tuteri ed infine il premio a Fabio Foglia per le 200 presenze in Amaranto. L'Alga Atleti Carezzo invece festeggia tra le mura amiche. Allo Stadio Tenti è ospitato il campionato di società interprovinciale della categoria cadetti che ha visto centinaia di atleti del biennio 2009-2010 di formazioni a retine, fiorentine, pratesi e senesi confrontarsi in un ricco programma di gare tra velocità, salti e lanci. Il bilancio dell'Alga Atleti Carezzo è particolarmente positivo con il terzo posto nella classifica generale femminile e il sesto posto nella classifica generale maschile in virtù della somma di tutti i risultati degli atleti presenti tra cui spiccano Stella Arniani nel salto con l'asta e Filippo Misuri nel salto triplo e nel salto in alto. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.